Siamo passati addirittura al bilancio orale, ovvero appunti scritti a mano su quello che è il bilancio della Regione Abruzzo. E anche la discussione sul documento di programmazione è lentissima a partire. Un documento dove non si risponde a una semplice domanda. Durante i lavori della Commissione abbiamo chiesto ma quali sono i 5 obiettivi in un documento di 150 pagine sui quali volete farvi misurare? Ebbene, non c'è stata risposta. E' un documento che riconosce il PIL che è aumentato e l'occupazione che è aumentata nel 2018, anno del centro-sinistra, che riconosce che le risorse del Masterplan sono quelle utili in qualche modo a dare delle risposte importanti all'Abruzzo e anche quelle sono risposte del centro-sinistra. La semplice domanda, ma quali sono i vostri 5 obiettivi? Zero risposte. E il bilancio continua sullo stesso passo, tant'è vero che la loro lentezza e questa modifica, questa integrazione di documenti poi mandatici in ritardo, hanno dovuto in qualche modo indurre la maggioranza a posticipare i lavori del Consiglio regionale che per l'approvazione verranno rimandati di una settimana. Questo è il lavoro che sta portando avanti la giunta lenta, sempre attaccata alla questione delle nomine e delle cosiddette mancette, degli aumenti degli stipendi dei manager e a delle risposte a volte del proprio cortile, ma che non ha una sola idea di come costruire l'Abruzzo del futuro.